era di Domenico Riccio che ti chiedeva se c'era uno stracismo da parte della Chiesa o un qualche tipo di attività da parte della Chiesa o se sono i politici che hanno paura di mettersi contro l'elettorato bigotto cioè è così, perché l'elettorato bigotto, chiamiamolo così, non è così tanto Allora, l'ultimo sondaggio SVG sull'eutanasia dà addirittura, che mi sembra anche esagerato il 93% di favorevole, no? Facciamo che non è il 93%, facciamo che è l'80%, il 75% Comunque sia, non è che il Movimento 5 Stelle o il PD possono pensare di puntare a quel 25x20, 25x15% semmai è più interessante l'altro 75%, quindi no, non credo che sia questo il problema Secondo me è un problema quasi, ecco, non c'è fiducia nel fatto che la libertà possa appassionare le persone Cioè, poi si dice, ah, quello lì, perché poi, cito Salvini, non perché, ma perché è l'uomo forte È l'uomo forte di un certo discorso del tipo, ah, quello lì parla alla pancia della gente È vero che spesso il discorso è un discorso che utilizza le passioni, le passioni della paura, della paura dell'altro, del migrante, quindi poi del tossicodipendente, quindi poi, no, la paura Ma non è l'unica emozione che abbiamo come esseri umani La nostra pancia, vuol dire anche, le emozioni sono anche una cosa positiva La pancia può essere la pancia dell'amore per gli altri, dell'altruismo, della felicità, della... Ecco, quello che una storia come quella di DJ Fabbo dovrebbe avere dimostrato Ma evidentemente lo ha dimostrato a tante persone, ma non ai capi di qualche partito italiano È che anche l'amore per la libertà può muovere la pancia della gente Questa, credo, è la grande lezione storica della non violenza e di Marco Pannella E avere attraverso i referendum e attraverso la non violenza, gli scioppi della fame, della sete, le disobbedienze civili Non essersi limitato a dire, io ho questa posizione, votatemi, io sono un antiproibizionista, votatemi, io sono un laico, votatemi Ma dire, no, io ho questa urgenza insieme alle persone che vivono questo problema E la sento questa urgenza, che fosse quella dei bambini che muoiono per fame in Africa Che fosse quella della gente incarcerata per le droghe La sento così tanto che sono disposto a volte a rinunciare al cibo, a rinunciare all'acqua A farmi arrestare E lo faccio insieme alle persone che sentono questa urgenza Questa cosa muove E invece nella politica italiana Non c'è più fiducia Nel riuscire a appassionare le persone a qualcosa di diverso Da chi invece appassiona sulla paura e sulla diffidenza Ok, sono abbastanza d'accordo sul fatto che queste cose possano appassionare Tu le vivi con molta passione, è palese Però il discorso della paura è, secondo me, comprensibile E credo sia anche una questione di fiducia nel corpo politico Perché se io devo andare Io sono, in realtà, lo dico chiaramente Poi lo sanno tutti quelli che mi guardano Sono molto allineato con molte delle tue posizioni, ad esempio Addirittura io dono il mio 5x1000 all'associazione Luca Coscioni Ad esempio, però ho trovato qualche cosa nella quale non sono perfettamente d'accordo Non ci mancherebbe altro Ed è la gestazione per altri Sì Sulla gestazione per altri Io non è che sono contro, però ho dei dubbi Quindi in questi giorni ho ragionato sul tipo di meccanismo Che potrebbe scattare in qualcuno Che come me, o magari peggio di me Abbia paura che lo Stato legiferi su questa cosa Perché la gestazione per altri a me fa paura Mettiamola così Secondo me lo Stato deve proteggere i più deboli L'attività dello Stato deve proteggere le persone più deboli Secondo me, nella gestazione per altri Ma non è che ne voglio parlare È solo un esempio La persona più debole è potenzialmente quella che per soldi Darebbe il proprio corpo per qualcuno Il fatto che io non mi fidi in un certo senso Perché questa cosa ce l'ho anche io Degli attuali politici, della politica in genere Effettivamente un po', una parte di me mi porta a dire Meglio che non si faccia questa cosa Perché metti che le leggi le facciano male E si finisca effettivamente nel balatro Che io vedo come possibile Penso che questo tipo di ragionamento Molti lo applichino anche per altre cose Per le droghe, per l'eutanasia Il problema è che le leggi ci sono Se fosse un discorso Teniamo fuori lo Stato Dalla fine della vita Teniamo fuori lo Stato Dalla gestazione per altri O teniamo fuori lo Stato Dal consumo delle sostanze Ci sarebbero comunque dei problemi Perché poi chi è che le produce Chi è che le vende, eccetera Ma le leggi ci sono A me fa sorridere Pane Bianco Uno degli ultimi intellettuali liberali Rimasti nel nostro paese Dice no, sul fine vita Bisogna lasciare una zona grigia Non bisogna andare lì con delle leggi Sì Peccato però che c'è una legge Del 1930 Per la quale io sono imputato adesso Sul processo di Davide Trentini Che prevede un minimo di 5 anni di carcere Allora se tu vuoi la zona grigia O se tu vuoi un margine Di non intervento dello Stato Devi deregolamentare Devi depenalizzare Devi delegiferare Non puoi fare finta Di volere che lo Stato Rimanga fuori da certe cose Sapendo che invece lo Stato Oggi prevede carabinieri Processi, polizia E tribunali e carceri Quindi la diffidenza e la paura Di un'azione Con conseguenze controproducenti Da parte dello Stato È una paura doverosa Nel momento in cui noi legalizzassimo L'eutanasia O legalizzassimo le droghe Non abbiamo risolto il problema Abbiamo iniziato A poterlo risolvere Perché O a poterlo Non risolvere A poterlo governare Perché oggi Governa la clandestinità Nel caso della droga Governa la mafia È la mafia che decide Il prezzo La distribuzione Davanti alla scuola La qualità Il passaggio Da una droga all'altra Governa tutto la mafia L'utilizzo dei profitti Nel momento in cui noi legalizzassimo Si apre La grande responsabilità Di governare un fenomeno Esattamente come col tabacco O con l'alcol Ti devi porre il problema La pubblicità Si può fare Non si può fare La qualità Come si controlla Come si gestiscono Le persone Che sono Insomma Tutti i problemi di governo Sull'eutanasia Il problema di governo Enorme È Come si aiutano Le persone Depresse Le persone sole Le persone che non sono curate bene Perché Questa è l'argomentazione Che ci viene usata contro E che è un'argomentazione Molto fondata Il fatto che Una persona Che chiede l'eutanasia Magari è una persona Che non è curata A dovere E che se fosse curata bene Non chiederebbe l'eutanasia Questo è vero Però da questo Il ragionamento Che conclusione trai Io trago la conclusione Che a maggior ragione Questa persona Non dovrebbe contattare Marco Cappato Per sapere Se può andare in Svizzera Dovrebbe poterlo dire Al suo medico Senza paura Che gli succeda niente E a quel punto Il medico Dovrebbe poter Propogli Un'assistente sociale Uno psichiatra Una migliore terapia Del dolore A seconda dei casi Salvo che poi Se come nel caso Di Fabiano Antoniani La persona era Curata Accudita Non depressa Ma era Trattata Come si deve Sul piano del dolore Ma confermava Quella scelta Di interrompere la vita A quel punto Quella scelta La rispetti Perché se no Si rompe la fiducia Nel medico Nello Stato Un'assistente sociale